Musica Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Partiamo subito con i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Programmazione europea 2021-2027 Via libera gli interventi di social housing A Palazzo del Pegaso è ripreso il dibattito sulle linee strategiche per la programmazione europea 2021-2027. L'Aula è tornata ad affrontare questa tematica dopo la comunicazione del Presidente della Giunta regionale Eugenio Gianni dello scorso 28 settembre. 2,3 miliardi in sette anni gestiti direttamente dalla Toscana. Finalmente dopo tre settimane siamo riusciti a ritrovare il Presidente per concludere questa importantissima discussione sui destini dei fondi strutturali europei. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continuano a fare grandi libri con dichiarazioni di intenti molto generiche ma non si finalizza questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la Regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese. Perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro Paese e della nostra Regione e ridistribuirla. E non si capisce come mai prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70% perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. Abbiamo una risoluzione importante, un momento di discussione per i prossimi sette anni, la certezza delle risorse comunitarie dei tre programmi di sviluppo della nostra Regione. È entrata nel vivo la programmazione del prossimo sette innate. Come tale abbiamo chiesto maggiori interventi a favore dello sviluppo delle infrastrutture, della connettività, della rivoluzione dell'economia circolare e le opportunità sociali di tenuta del territorio, attività di formazione, alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto un grande investimento sull'opportunità per i giovani, per renderli partecipi del processo lavorativo e le opportunità anche per le aree interne di trovare compensato quel gap enorme che c'è tra le aree urbane e il territorio periferico. Abbiamo sottolineato sette punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi sette anni che il Presidente Gianni ha presentato all'Aula. Quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe. Ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR, quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. Sono fonti che ammonteranno grosso modo a 2 miliardi e mezzo, ma soprattutto che si aggiungono a quelli del PNRR che sapremo catturare e ai fondi di sviluppo e coesione. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra regione, per migliorare il nostro sviluppo, per andare verso uno sviluppo sostenibile e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre Toscane, quella metropolitana che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima, con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fragilità, che hanno minori opportunità di servizi, che hanno minori opportunità di lavoro. Ecco, credo che spendere bene queste risorse possa invece rappresentare l'occasione per riallineare le performance di tutti i nostri territori. Per andare verso una Toscana che sia improntata ad uno sviluppo sostenibile, che sia improntata ad un'economia più ecologica, che sia improntata ad una maggiore digitalizzazione, quindi la presenza della banda larga in tutti i nostri territori, con quello che questo comporta per quanto riguarda la possibilità di telemedicina, quindi di equità di accesso alle cure, per quanto riguarda le esigenze delle imprese, dei singoli cittadini, per quanto riguarda la possibilità di studiare a distanza e quindi di affermare le pari opportunità, sia di genere fra uomo e donna, sia fra territori. Per noi in questo momento le priorità sono chiare, economia, lavoro, formazione, anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto sarà importante per far sì che questa regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali, perché la vera emergenza è anche l'emergenza della povertà, ci sono dati veramente allarmanti. Dobbiamo far sì che si crei un sistema virtuoso tra regione, governo, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento degli enti locali. In questo senso la cabina di regia, che finalmente è partita, e che noi auspicavamo da tempo, da almeno sei mesi, sembra che prenda le mosse, ci saranno degli incontri che coinvolgeranno non solo gli amministratori locali, ma anche le associazioni. E questo è sicuramente un dato positivo. Ci spiace che su alcuni temi che a noi stavano a cuore e che hanno avuto ad oggetto delle risoluzioni, che abbiamo portato in Consiglio regionale, che riguardavano incentivi alle aziende, che mirassero a effettuare una formazione qualificata, così come incentivi per quelle aziende che presentavano progetti in materia di sicurezza sul lavoro, così come anche un tema importante che poteva essere il legare nuovi investimenti e quindi il creare una sinergia tra nuove industrie che magari avessero intenzione di investire in territori caratterizzati da forti presenze di aree industriali dismesse, ecco, su queste proposte ci sia stata una sostanziale bocciatura. Il nostro partito ha presentato una proposta di risoluzione che ha al centro, tra molti temi, uno che sta a cuore alla Quinta Commissione, alla Commissione Cultura e Scuola, perché abbiamo rinnovato come indicazione sulle priorità di investimento dei fondi strutturali quella che è diretta ad implementare la presenza di asili nido e a migliorare la condizione di fruibilità per le famiglie, vale a dire principalmente abbattimento delle tariffe, perché si tratta di un servizio molto costoso. Se vogliamo dare davvero un segnale e cominciare ad affrontare uno dei mali endemici di questo tempo nel nostro Paese e anche nel nostro territorio, che è il calo demografico, è necessario provvedere con servizi alle famiglie che consentano ai più giovani e alle famiglie più giovani di programmare il loro futuro. Con questo va la preoccupazione per i più giovani e quindi per la formazione professionale, per tutto il distretto formativo, dalle scuole all'università e al settore terziario della formazione professionale. C'è poi un altro tema che ci sta a cuore, è quello delle imprese culturali, un settore dove ci sembra importante tornare ad investire. Una programmazione che dovrà tenere in considerazione è un duplice aspetto, da una parte i fondi strutturali europei, dall'altra il PNRR. Sicuramente il PNRR costituisce una grande risorsa anche per la Regione Toscana e sarà importante, come è stato detto più volte, spenderla in tempi veloci, spenderla bene, ma soprattutto nello spenderla bene bisogna tenere ben presente quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere, che in questo documento secondo noi non sono sufficientemente precisati, così come non sono anche abbastanza precisi il cronoprogramma con cui si intende raggiungere quegli obiettivi. Quindi, al netto di questo aspetto metodologico che secondo noi deve essere introdotto all'interno di tutto il lavoro che deve essere fatto, un'attenzione particolare a quella che vi è stata ribattezzata, il BES, la cabina di regia Benessere Italia che è stata varata dal governo Conte e che prevede che non ci si basi soltanto sul PIL per valutare quanto siano efficaci delle misure che prendiamo, ma che sia valutato il benessere della popolazione che richiede l'analisi di molti altri parametri, quali per esempio quelli relativi allo stile di vita, di salute, alle condizioni ambientali, perché se vogliamo davvero che questi investimenti vadano per le prossime generazioni, oltre che per quelle attuali, e siano davvero un salto di qualità dal punto di vista esistenziale, dobbiamo affidarci a nuovi paradigmi e abbandonare quelli del passato. Il PIL, l'economia è importante sì, ma non è tutto, la qualità della vita delle persone e dell'ambiente è al centro di quel nuovo manesimo che questo nuovo progetto e anche il PNRR deve promuovere. Il Consiglio ha approvato con voto favorevole a maggioranza la proposta di legge che dà il via libera agli interventi di social housing. L'atto autorizza per l'anno 2021 la spesa massima di un milione di euro per la sottoscrizione di ulteriori quote per la promozione di servizi integrativi di comunità per la gestione di alloggi sociali. Con la PDL che abbiamo approvato noi andiamo a comprare, a autorizzare la Giunta ad acquisire un altro milione di euro di quote del Fondo Sociale Housing Toscana. La misura dell'housing sociale, ricordiamolo che cosa è, è la possibilità di individuare alloggi per quella fascia di popolazione che non rientra nelle case popolari ma che non ha neanche una situazione economica per accedere al libero mercato. Quindi una fascia di migliaia di persone in Toscana che rimangono fuori da qualsiasi misura di aiuto per la casa. Nel 2014 la Regione ha fatto un bando aderito per la prima volta a un fondo chiuso di housing sociale e questo ha permesso con il primo investimento e con il secondo del 2020 con 7 milioni di euro di avviare investimenti per 140, oltre 140 milioni di euro e quindi 1.300 alloggi sono stati messi alla disponibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. Con quella cifra noi avremmo fatto neanche 40 alloggi ERP quindi non perché debbano essere in contraddizione ma anzi sono misure che vanno di pari passo ma voglio dire anche che questo intervento che abbiamo fatto oggi si basa su un'analisi di grande risultato delle misure passate. Siamo contenti che alla fine anche l'opposizione abbia capito qual è il significato di questa misura e quindi non abbiano votato contro come invece hanno fatto in Commissione. si tolgono un milione di euro dal titolo 2 dove si parla di spese in conto corrente e si trasferiscono in titolo 3 dove si parla di spese per incremento di attività finanziarie. E' logico che siamo rimasti abbiamo chiesto e ci sono state delle risposte da parte dell'assessore che ancora non ci convincono per terminare il fatto che come si fa a togliere i soldi da case popolari per metterli in un fondo. Ecco questa è la grande criticità. Però siccome questo percorso di ciò che sta facendo l'assessore all'interno di questo fondo che i soldi ci verranno restituiti alla termine del completamento cioè fra 25 anni partendo da 2014 diciamo che siccome questi soldi sono stati investiti poi in un modo o nell'altro all'interno delle case popolari ecco non riteniamo di dover votare contro questa iniziativa però ci lascia sempre comunque con il sospetto di qualcosa che dobbiamo ancora approfondire probabilmente c'è stato l'errore di non fare un passaggio da parte dell'assessore nella commissione perché probabilmente avrebbe spiegato meglio anche se oggi i dubbi ci rimangono. Il lausino sociale secondo noi è un grande passo avanti nel modo di interpretare l'abitazione per quanto riguarda le attività legate a ERP o altro nel nostro programma avevamo pensato anche al silver co-housing un'esperienza molto positiva che è stata sviluppata in Francia e in Spagna quindi guardiamo sicuramente a favore con questa iniziativa che è stata presa dall'assessore a Spinelli che va in linea secondo noi con quelle che sono le nuove esigenze ma siamo perplesse per quanto riguarda l'utilizzare strumenti che siano esterni alla regione toscana e non andare in proprio con questo tipo di attività quindi coinvolgere un partenariato con il privato mentre secondo noi un'attività tenuta interamente all'interno della regione permetteva maggiore trasparenza maggiori controlli e delle spese più attente e mirate anche perché questo tipo di servizi secondo noi devono essere monitorati con costanza perché ERP in questi anni non ha dato grandissima prova di sé quindi dobbiamo sicuramente anche qui fare un salto di qualità la politica e il consiglio regionale in particolare che è l'organo legislativo il legislatore in ambito appunto regionale deve occuparsi fondamentalmente del tema dell'abitare perché comunque a secondo di come si gestisce questo tema si avrà una società diversa nei prossimi anni è chiaro che costringere intere generazioni a nascere crescere fare i ragazzi gli adolescenti i ragazzi in dei ghetti poi provoca dei ghetti anche da un punto di vista sociale ecco noi pensiamo che si debba rivedere tutta la discussione in ambito regionale sicuramente il tema dell'housing sociale ovvero di andare a coprire quella fascia grigia che non è sufficientemente povera per poter accedere all'ERP ma non è nemmeno sufficientemente ricca per poter stare nel libero mercato è una prima risposta noi riteniamo però che debba essere fatto un ragionamento complessivo debbano essere fatti degli stati generali sull'abitare in Toscana dove tra le altre cose si metta al centro il tema dell'alienazione degli alloggi popolari perché con quei soldi si può rigenerare tanto patrimonio che sta accadendo se ne possono costruire dei nuovi ed è tutto questa era la nostra ultima intervista a cronache e commenti torna la prossima settimana a Grazie a tutti.